Allora, cominciamo l'ultima settimana di corso, come sempre finiremo un po' di temi di esame e mercoledì ci sarà la seconda simulazione, domani sera nella lezione di martedì dedicheremo un po' di tempo anche a vedere quelli che erano i punti un pochino più difficoltori della simulazione di mercoledì scorso. Oggi però invece vorrei concentrarmi su un tema di esame nuovo, che è quello del primo appello dell'anno scorso praticamente, ne avrete sentito parlare male probabilmente, dei vostri compagni dell'anno scorso, perché è stato poco gradito come appello, però vediamo insieme che in realtà era più leggenda che non realtà probabilmente. Allora, quindi facciamolo insieme, facciamolo per bene fino in fondo, così dimistifichiamo anche questo appello dell'anno scorso. Allora, probabilmente avete già dato un'occhiata, quindi diamo una scorsa veloce al testo, ci dice di usare un database che si chiama Formula 1 contenente informazioni su gare, costruttori, piloti e circuiti di Formula 1 estratto dai dati pubblicati su questo sito di un tizio che, o diciamo una serie di tizi che tutte le domeniche diligentemente si mettevano a ricopiare dati dei risultati di Formula 1 all'interno di un database che poi distribuivano. Il database è strutturato secondo il diagramma entità relazione della pagina seguente. Effettivamente la pagina seguente è abbastanza densa di tabelle, è un database abbastanza complicato, in realtà non ci serve tutto. Allora, intanto per orientarsi all'interno di questo database, che è poi la cosa principale, questi dati sono strutturati in questo modo, abbiamo una tabella di stagioni, che sono le stagioni, 2004, 2015, 2016, di vari campionati, ogni anno c'è un campionato nuovo, una stagione nuova. Una stagione è identificata da un anno e all'interno di una stagione ci sono una serie di race, di gare. Quindi ogni gara ha un suo ID e si svolge un determinato anno, l'anno corrisponde alla stagione. Dopodiché, cosa mi dice della gara? La gara innanzitutto si svolge in un certo circuito, circuito ID, Monza e così via, e qui abbiamo una tabella che ci spiega come sono fatti i circuiti. Quindi ogni circuito ha un suo nome breve e un nome lungo. Quasi sempre in questo database c'è un ref, che è una stringa breve, che però contiene il nome del circuito e un name, che è un nome per esteso. Se vogliamo possiamo andarlo a vedere sul database, che io ho già precaricato per risparmiare un po' di tempo. Dicevamo, abbiamo seasons, che è una tabella molto semplice, che contiene semplicemente le stagioni e poi un link a Wikipedia per spiegare quella stagione. In una season ci sono tante races, tante gare, quindi race ID 224 si è svolta nell'anno 1996 e se io ordinassi per anno, ad esempio vedo che per un determinato anno, se tenessi ordinato per anno vedo che all'interno dello stesso anno ci sono diverse race, diverse gare che si svolgono ovviamente in circuiti diversi, in circuiti di diversi. Questo è il nome della gara che vediamo qua nella tabella races. Si svolgono in un certo circuito, i circuiti sono qua, dove c'è un ref, un nome breve e il nome per esteso. Questi ovviamente sono fissi, sono statici, sono le piste di Formula 1 che esistono al mondo. Quindi ogni gara si svolge in un certo circuito e questa è la parte sinistra di questa figura, la parte, queste tre tabelle, season, races e circuits, è l'elenco delle gare. Dopodiché abbiamo dall'altra parte i piloti, drivers e i costruttori, constructors. Anche qua c'è l'elenco di tutti i piloti, driver ID, driver ref e name, quindi possiamo andare a vedere, c'è un driver ID, un driver ref, un codice che è quello che si vede poi in sovrimpressione e poi nome e cognome, data di nascita, nazionalità e un po' di cose del genere sui vari driver. Idem per i costruttori, constructor c'è un ID del costruttore, nome breve, nome completo, nazionalità del costruttore e basta. Quindi da un lato abbiamo le gare, i costruttori e i piloti. In mezzo che cosa c'è a questo database? In mezzo ci sono i risultati, ci sono i risultati di che cosa ha fatto quel pilota in quella gara e che cosa ha fatto quel costruttore in questa gara. Allora abbiamo due tabelle che sono constructor results e constructor standings che legano, sono tabelle che legano un constructor a una race e idem qua un constructor a una race. Quindi si dice questo costruttore in questa gara che cosa ha fatto. qua hai lo standings, cioè l'ordine d'arrivo finale. Qua hai invece i risultati, essenzialmente c'è i punti, quanti punteggi quel costruttore ha guadagnato. più interessante è la parte sui piloti, anche qua, qui c'è la tabella sulla qualificazione, quindi le prove del giorno prima, dove è partito, qual è stata la posizione di partenza, posizione di partenza. E poi ci sono i risultati della gara vera e propria. Abbiamo una tabella di standings, di nuovo, che dice qual è la posizione a cui è arrivato, finale, a fine gara. E poi ci sono, se ci interessano, dei dati a metà gara, tipo i tempi di giro, quindi su questo database c'erano tutti i tempi di ciascun giro fatto da ciascun driver in ciascuna gara. Ricordiamoci che ciascuna gara non vuol dire ciascun circuito, una gara è data da un circuito in un anno. E poi Pistop ha anche le pause ai box per cambio gomme o altro. E poi c'è ancora qua sotto una tabella che vedremo che è la nostra amica, results, che lega da un lato la race, dall'altro il driver e dall'altro ancora il costruttore, vedete che sono tutte relazioni univoche in uscita. Quindi risultato, race ID, driver ID, è il constructor ID. Per un certo race, per un certo driver, per un certo costruttore una serie di dati che ti dicono qual è stato il risultato di quella gara. Quindi la posizione, il position tech, il position order, eccetera, eccetera. Andiamo a guardarla, ad esempio drivers, scusate, results. Results dice che per questa gara, per questo guidatore, per questo costruttore, che poi vediamo chi sono, questo ad esempio McLaren, la McLaren con Hamilton, la gara 18, che era qualche gran premio d'Australia, è arrivato in posizione 1, in posizione 1, è arrivato primo. Vedete questa colonna posizione, poi ci servirà, ti dice quanto è arrivato quel guidatore in quella gara. A volte null, perché non è arrivato al traguardo, non sempre arrivi in fondo. qui abbiamo una colonna position, che è il valore numerico della posizione, oppure null se non è arrivato, e poi c'è una colonna position text che riporta lo stesso valore, però sotto forma di stringa, sotto forma di testo, e una R nel caso in cui si è ritirato o ha la causa, il motivo per cui non è arrivato al fondo. E per quelli ovviamente che sono arrivati, per primi c'è anche il punteggio che hanno guadagnato, il numero di giri che hanno fatto, ovviamente il numero di giri dovrebbe essere uguale per tutti quelli che sono arrivati al fondo, vedi che questo qua si è fermato dopo il 47esimo giro. Questi qui non so perché li dia per arrivati, che in realtà non hanno fatto tutti i giri, ma non so tutti i dettagli del regolamento, il tempo totale, qual è stato il giro più veloce, eccetera, eccetera. Una serie di informazioni. Sull'esito della gara in modo sintetico, invece se andiamo a vedere la tabella, ad esempio driver standings e qualifying ci dà dei dettagli più specifici di quella singola gara, però risalza mi sembra quella che riassume un po' di più quello che ci interessa. E che cosa ci interessa? Allora, torniamo a vedere il testo. Allora, questo database sembrava complicato, diciamo, è fatto di molte tabelle, solo per dare un attimo di contesto, questo stesso database l'anno scorso l'abbiamo usato in una simulazione d'esame due settimane prima dell'appello, quindi era già in teoria ben noto, per cui in teoria non servirebbe molto tempo per andarselo a studiare. Ok, allora, cosa ci chiedeva di fare questo testo? L'applicazione di trovare il seguito dei funzioni. Uno, l'utente seleziona nel corrispondente menu a tendina, questo qui, l'anno di una stagione preso dalla tabella season, in cui si sia disputato un campionato. E vabbè, questo è facile, questa tendina qua la popoliamo con l'elenco delle stagioni. Premendo sul tasto vittorie piloti, che è questo qua a fianco, l'applicazione costruisce un grafo che rappresenta le vittorie tra piloti. Si considera che ogni pilota vince, con questa definizione che diamo noi nel grafo, su tutti coloro che hanno partecipato alla stessa gara e sono arrivati dopo, in base al campo position della tabella results. Mancava solo più che scrivessi la query. Vuol dire che io ho un grafo i cui vertici sono dei piloti, non tutti, ma solamente quelli che hanno partecipato alle gare considerate. Quali sono le gare considerate? Sono tutte quelle della stagione che è stata selezionata. In ciascuna gara è considerato solo quelli che hanno tagliato il traguardo. Allora noi abbiamo già visto cosa vuol dire, nella tabella results se la position è nulla vuol dire che non è arrivata al traguardo e quindi prendiamo quelli che hanno la position non nulla. Signorino quindi i piloti che non hanno terminato la gara. Un arco orientato rappresenta la vittoria di un pilota su un altro. Cioè cosa vuol dire la vittoria di un pilota su un altro? Vuol dire che io sono arrivato in una certa gara al terzo posto, tu sei arrivato il quinto e quindi io ho vinto su di te. Ma se io sono arrivato al terzo posto avrò un arco in cui dice che io vinco sul quarto, io vinco sul quinto, io vinco sul sesto e così via. Vinco su tutti coloro che hanno partecipato alla stessa gara e sono arrivati dopo di me. Ma contemporaneamente perdo da chi è arrivato primo e da chi è arrivato secondo che vince su di me. Quindi un grafo di questo genere. Qui l'ha detto un pilota vince su tutti coloro che hanno partecipato alla stessa gara e sono arrivati dopo. Un arco orientato rappresenta la vittoria di un pilota su un altro nel grafo con il peso pari al numero di gare in cui tale vittoria si è verificata. Cioè quante volte tu in quest'anno, in questa stagione tu sei arrivato davanti a me? Questo è il peso dell'arco. In quante gare tu sei arrivato davanti a me? In quante gare nelle quali sia io che te siamo arrivati al traguardo, altrimenti non conta. Costruito il grafo, che è la parte difficile costruire il grafo, l'applicazione visualizza il pilota che ha totalizzato il miglior risultato, definito come differenza tra numero vittorie e numero di sconfitte. La vittoria è facile perché gli archi uscenti mi dicono con chi ho vinto e il peso mi dice quante volte ho vinto e le sconfitte sono gli archi entranti che mi dicono da chi ho perso e quante volte ho perso. Quindi basta fare la somma dei pesi degli archi uscenti meno la somma dei pesi degli archi entranti, quindi questo punto C era banale. La parte complicata era un pochino costruire gli archi del grafo. Cominciamo a implementare questo, sapendo che poi nel punto 2 era la classica domanda di tipo algoritmo ricorsivo, in cui dovevamo identificare, lo leggiamo con calma dopo quando abbiamo finito il punto 1, ma in cui dovevamo identificare un gruppo di K piloti, cioè su questo grafo che avevamo costruito dovevamo trovare un sotto insieme di piloti di dimensione K, 2, 3, io di lì, che avessero una certa proprietà, che massimizzassero una certa proprietà. Qui lo chiamava il dream team, alla fine detto in poche parole, sono il gruppo di 3 piloti che ha vinto più di qualunque altro gruppo di 3 piloti, dove si sceglie di 3 piloti migliori quali sono? Io li vedo come team e non come singoli piloti e quindi se fosse un team le sconfitte e le vittorie tra di loro non le conto, conto quelle che sono le sconfitte e le vittorie di quelli del team rispetto a quelli fuori dal team, perché magari chi arriva sempre secondo ha perso tante volte da chi è arrivato primo, ma comunque è uno di quelli da prendere nel team preferito. Ma questo qua lo vediamo dopo, quindi semplicemente una volta che avevo il grafo dovevo trovare ricorsivamente un sotto insieme di K vertici, di 3 vertici, di 2 vertici, che massimizzasse una certa funzione, funzione che si calcolava sempre in un modo analogo al punto C del primo esercizio, contando i pesi degli archi. Ok, ma partiamo dall'inizio. Allora, io, come dicevo, per risparmiare un po' di tempo mi sono già scaricato il progetto dal sito, se volete partire dall'inizio partite da qua, come facciamo il testo del Tournoa, gli altri sono leggermente simili, ma uno parla dei costruttori anziché dei driver, qui c'è lo zip che contiene il progetto, come al solito, io l'ho già importato, ho già importato il database e ho anche aggiornato le librerie, perché rispetto a quell'anno scorso, jgraph.t ha arrivato la versione 1 anziché la 0.9 qualcosa, eccetera. Quindi la versione aggiornata, se volete, ve la trovate già su GitHub, direttamente da clonare se volete. Però ricordatevi che all'esame invece si parte dallo zip e non da GitHub. L'unica cosa, se decidete di partire dalla versione che c'è su GitHub, c'è un errorino nelle librerie, scusate, ho sbagliato qua, per cui bisogna andare a modificare il build path, perché io ho aggiunto la versione 1.0, 1.1, 1.0.1 di jgraph.t, ma mi ero dimenticato di cancellare quella vecchia, o meglio l'ho cancellata dalla cartella, dal progetto, dalla cartella lib, ma non l'ho cancellata dal build path, per cui se per caso vi clonate quel progetto vedete subito che vi dà errore, dite che cos'è sta roba, è semplicemente bisogna togliere questo riferimento a una libreria che non c'è più e che non usiamo più, perché usiamo la versione più recente. Mi sono accorto dopo che ho fatto il push, quindi adesso dovrebbe essere a posto. Ok, ho sparito l'errore, ok, va bene, allora possiamo cominciare. Vabbè, qui diamoci su un'occhiata per vedere che cosa c'è già in giro, qui c'era già una model che conteneva una serie di classi circuito, costruttore, driver, lap time, race e season, quindi c'erano già i BIM praticamente per tutto ciò che ci servisse, questi li avevano già pronti perché come dicevo li avevano già fatti nella simulazione d'esame la settimana prima. E poi c'è un DAO che contiene 4 metodi, darmi tutti i circuiti, darmi tutti i costruttori, tutte le stagioni, tutti gli anni, years of race che cos'era? Gli anni in cui si sono tenute delle gare che dovrebbero corrispondere alle stagioni, quindi non può una query inutile. Cosa dobbiamo fare noi come primo punto? Beh, prima di tutto dobbiamo popolare questa tendina con l'elenco delle stagioni, va bene, quindi potremo probabilmente già usare la Get All Seasons che mi dà già come risultato una lista di stagioni, Select Anno, Url che sono i due campi a tabella Seasons, ordinata per anni, Crea Oggetti Seasons, ok, è quello che ci serve. Quindi questo metodo qua, Get All Seasons, lo possiamo usare per popolare la tendina, del DAO, lo possiamo usare per popolare la tendina. Quindi nel nostro modello, che per ora è una classe vuota, andiamo a fornire supporto per l'elenco delle stagioni e magari, come sempre fa il modello, ce lo memorizziamo in modo da poterlo ricordare. Quindi possiamo dire che il modello si ricorda una lista di stagioni e abbiamo un metodo Public Get Seasons, che restituisce questa lista, oppure se non la conosci ancora la calcola e poi la restituisce, quindi il solito pattern che abbiamo, se per caso la conosco già, la restituisco, altrimenti devo fare una query per calcolarla. In questo modo la query non viene fatta più volte, viene fatta solamente la prima volta. Qui dentro devo fare la query ovviamente, perché se Seasons è ancora nulla vuol dire che non lo conosco ancora e la prima volta che chiamo Get Season dovrò andare al DAO e chiedergli per favore interrogo il database, quindi si chiama Formula 1 DAO e quindi questa è l'informazione che mi dovrebbe servire per riempire la tendina nel mio controller. Torno al controller, Formula 1 controller e dove la popolo la tendina la popolerò all'interno di Set Model, non la posso fare dentro Initialize come al solito perché Initialize non conosce ancora il model e quindi non può chiedergli quali sono gli anni. Allora, per far questo devo popolare la tendina, devo specificare che la tendina contiene che cosa? Oggetti tipo Season, non interi, non stringhe, ma oggetti stagione. Ok. E quindi se contiene, conterrà una lista di oggetti stagione che è esattamente la lista che il modello è in grado di restituirmi. Quindi this, o chiamiamola box, hanno.getItems, vedete che è una lista di Season, il nostro GetItems, addAll, lui vuole una collection di Season, ma io te la do subito questa collection perché è model.getSeasons. Contiene gli oggetti e visualizzerà che cosa? Visualizzerà il ToString dell'oggetto stesso. Quindi fin qua, vediamo se funziona, qui abbiamo Set Model, controllo solo che il Main lo richiami. Il Main aveva già GetController, NewModel, SetModel, sì c'è già tutto. Quindi partendo, facendo partire il programma, ok, io ho l'elenco delle stagioni, adesso il ToString lo scrive in questo modo, con Season, Parenti di Quadra, facciamocelo piacere. Se non basta modificare il ToString per far comparire qua il formato che preferiamo. Ok, qui ci sono tutte, vediamo che nel database ci sono tutte le stagioni, dal 1950 fino al 2016, questo è il database che avevo scaricato l'anno scorso, probabilmente i tizi sono ancora andati avanti, quest'anno avremmo anche i dati del 2017, ma non ho voluto toccare i dati. Adesso dobbiamo a questo punto implementare cosa succede quando l'utente clicca su Vittorie Piloti, cioè la costruzione del grafo contenente tutte le coppie di vittorie, eccetera, eccetera. Allora, come prima cosa, il testo cosa ci dice? Vabbè, è un grafo, pensiamo a, ragioniamo top down, devo costruire un grafo, che tipo di grafo è, chi sono i vertici, chi sono gli archi? Che tipo di grafo è? È un grafo orientato, pesato, orientato perché se io vinco su di te, non è detto che tu vinci su di me, anzi esattamente no, è pesato perché io nell'arco ho bisogno di conoscere quante gare, in quante gare io ti ho battuto, io ho vinto su di te. Quindi, torniamo al model, vuol dire che il nostro grafo dovrà essere un simple, se non sbaglio, si chiama, eccolo qua, simple directed weighted graph. È un grafo semplice, non un multigrafo, perché non possono esserci più volte l'arco A vince su B. Cioè, A vince su B, c'è una volta sola e dentro l'arco c'è scritto quante volte vince. Quindi, attenzione a non fare un default directed weighted graph, non simple, perché il default, l'oggetto di, la classe default, directed weighted graph crea un multigrafo e poi facciamo casellini perché abbiamo più archi di quanti ci servono. Questo grafo avrà come nodi i driver. Attenzione quando usate driver, perché purtroppo si chiama driver la classe del modello, da non confondere con java.sql.driver. Quindi se per caso cliccate sull'import sbagliato, poi vi trovate un albero di natale di errori che non capite, perché purtroppo è una classe che non c'entra niente, che si chiama nello stesso modo. E vabbè, l'arco sarà un default weighted edge. Magari diamogli un nome, graph. Che c'entrano sti parentesi? Dai. Questo è il grafo che dobbiamo popolare. Per popolarlo ci servono innanzitutto gli archi, i vertici. I vertici non sono tutti i driver. Perché qui abbiamo i campionati del 1950, ci sono dei driver che sono già andati tranquillamente in pensione, abbondantemente. Cosa ci dice il testo? Ci dice che i vertici del grafo sono i piloti che hanno partecipato alle gare considerate. E hanno tagliato il traguardo. Partecipato e tagliato il traguardo in almeno una gara di quelle della stagione selezionata. Allora, proviamo a estrarli questi. Di chi è il lavoro? È del database. Perché se io mi mettessi adesso a pensare in Java di prendere tutti i driver e tutte le gare, e tutti i risultati delle gare, puoi andare in Java a cercare di capire se questo tizio in quella gara ha partecipato e è arrivato, lo posso fare, ma ci metto la mia bella ora di lavoro. Invece qua io devo selezionare i driver che, abbiamo detto, sono arrivati al traguardo e quindi ad esempio dentro il risalz hanno una posizione non nulla, sono arrivati al traguardo, la loro gara è valida, non si sono ritirati o si sono fermati o incidentati per qualche motivo. In una, in questo risultato, quindi vuol dire che questo driver ID 2, che non so chi sia, in questa gara 18 è arrivato. Questo driver ID 13 in questa gara 18 non è arrivato. Adesso a me interessano ovviamente le gare che si tengono nella stagione indicata. Allora devo andarmi a prendere quali sono le gare di questa stagione e questo lo so dove, nella tabella races, dove ho l'ID della race e l'anno della stagione. Quindi data la stagione selezionata all'utente mi prendono tutte le race corrispondenti, quindi l'ID di gara, per ogni gara vado a vedere qual è l'ID del driver se la posizione non è nulla. Allora, detto parole, si dice anche nel SQL, a me serve select drivers punto asterisco, from, abbiamo detto, partiamo dalle races, virgola drivers, scusate, results, drivers, where? Allora, prima di tutto la race è dell'anno che mi interessa, races punto year uguale, diciamo 2000, qui ci metteremo il nostro parametro, selezionato dall'utente. and, collego race a result, quindi result punto results punto race ID uguale races punto race ID, cioè i risultati, questa è la gara, queste sono le gare dell'anno 2000. di ciascuna di queste gare vado a vedere tutti i risultati che portano, di ciascun risultato vado a controllare che la posizione sia not null, cioè quel pilota sia arrivato e allora in questo caso mi interessa quel pilota. e quindi voglio sapere, il pilota, quindi il driver ID, lo collego alla tabella drivers per prendere tutti i dati di quel pilota. Ok, a me interessa il pilota, ma il pilota che abbia avuto un risultato con posizione non nulla in almeno una gara di quell'anno. Partito dalla gara, partito dal pilota, dovete collegare queste tre cose. In realtà la tabella piloti, la tabella drivers, ci interessa solamente per avere tutti i dati del driver, perché l'ID del driver, la sua identità, già la conosciamo da results, però poi non sappiamo il nome, non sappiamo costruire l'oggetto drivers. Allora vediamo se sta qui, mi dice qualche cosa, mi dice ad esempio che il driver 2 è uno di quelli che è arrivato al traguardo nell'anno 2000, in almeno una gara dell'anno 2000, anzi in realtà vediamo che c'è arrivato 7 volte o 6 volte. Coulter c'è arrivato molte più volte al traguardo, Trulli anche e così via. Ovviamente queste cose sono ripetute perché avendo fatto una join con Races, una riga compare ogni volta per ogni nuova gara. Poi noi abbiamo estratto solamente il driver punto esterisco, ma se io mettessi anche qua Races punto, ad esempio mettiamo qualcosa, name, intanto per capire cosa succede, vedremo che questo Heitfield in realtà compare più volte perché è arrivato al traguardo in più gran premi diversi. ma noi al momento non ci interessa in quali o in quanti gran premi lui è arrivato al traguardo, ci interessa solo che sia arrivato al traguardo almeno una volta e così diventa un vertice del mio grafo. Allora non mi interessa distinguere tra queste 6 gare, mi interessa solamente, mettiamoci un disting davanti, mi interessa solamente chi è lui. Quindi vediamo che in questo anno 2000 il nostro grafo sarà composto, dovrà essere composto da 23 vertici, da 23 driver. Se fosse il 2015, ad esempio, il grafo sarà composto da 21 driver, ovviamente cambia di anno in anno perché dipende effettivamente da quali sono i piloti che riescono ad arrivare almeno una volta al traguardo e non si sfasciano prima, no? Perché sapete che ci sono molti piloti che in tutto l'anno non arrivano manco una volta. Ok, questa è la query che ci serve. Che ci dà una lista di driver che costituiranno il vertice del nostro grafo. Allora, mettiamolo dentro al controller, sulla tela DAO, come prima cosa, aggiungiamo una query qua sotto, public, lista di driver, attenzione a prendere quello giusto, mettiamo get drivers for season. ovviamente questo è parametrizzato sulla base della stagione. e questo metodo del DAO dovrà eseguirmi la query che abbiamo appena scritto, copia, incolla. vi ho già fatto vedere come si fa a impostare clips in modo che quando incolli una query ti metta già i più, gli accano. se andate nelle preferenze di clips, cercate qua sopra paste, e vi dà java editor typing, e tra le varie opzioni di typing e di fatto come funziona, cioè l'impostazione dell'editor, c'è quest'ultima qua, escape text when pasting into a string literal. vuol dire che quando fai un'incolla del testo dentro una stringa, i vari a capo, eccetera, vengono tradotti in java. quindi ti aggiunge, ti chiude le virgolette, ti mette il più e vai a capo da solo. ciò che non fa è convertire questi barrendi a capo, io li converto in spazio, ma per aggiungere più che altro estetiche, perché sennò per MySQL non interessa. quindi ci risparmia un po' di tempo mettere quell'impostazione. ok, questa è la query, posto 2016 ovviamente ci devo mettere il punto interrogativo, perché è il nostro parametro, e costruiamo la connection db connect punto get connection prima cosa, prima di dimenticarlo, metto il connection punto close, se no vi lamentate che si blocca tutto, perché esaurite le connessioni, se vi dimenticate di chiuderle, e a questo punto, ci ho messo il try catch perché connessioni punto close, può generare un'incezione, ma va bene, io adesso lavoro qua dentro, prepare statement, qui c'è sempre stessa cosa, connection punto prepare statement, di quella SQL è là, adesso devo impostare il parametro, non dimenticatevelo, statement punto set int, il primo parametro, l'unico che abbiamo è l'anno della stagione, quindi la stagione S, get year, solo che get year, per come è stato definito questo oggetto, è un oggetto di tipo year, quindi java.time.year, il set int si aspetta invece un intero, e quindi dall'oggetto year devo ancora estrarre un get value che mi dà l'intero. Quindi dentro questo punto derogativo ci vado a mettere il numero intero che corrisponde all'anno della stagione che mi è stata specificata. A questo punto posso eseguire la query, execute query, sperando che vada tutto bene, e popolare la lista dei risultati andando a rotolare i risultati di questa query. Quindi una lista di driver, new array list e while result set punto next driver d uguale new driver e qui è lunga la storia perché l'oggetto driver ha 22 miliardi di campi, driver id, driver ref, number, code, eccetera, eccetera, vabbè, uno per volta le facciamo. Driver id, driver ref, number. Quindi nel DAO e via. Il primo è il driver id, quindi il result set che è un intero, get int, driver id. poi il secondo è driver ref. Il terzo, lo vado a vedere dalle SQL, tanto il bing è stato fatto paro paro, number, get int, number. Poi abbiamo code, poi for name e surname, poi abbiamo ancora DOB che sarebbe date of birth, data di nascita, ovviamente è un oggetto di tipo date e il nome della colonna si chiama DOB ma nel nostro bing questa data di nascita è stata definita come local date quindi la SQL mi restituisce un oggetto date ma io lo devo convertire in local date e poi mi manca ancora nazionalità e url due string res.getstring nazionality res.getstring url res.getstring chiuso la parentesi getstring ok non c'è più niente di rosso direi che abbiamo messo tutti i campi e poi a questo punto abbiamo costruito l'oggetto D e lo aggiungiamo alla lista result.add D ho messo su una riga separata la creazione dell'oggetto perché ho avuto tanti campi per ragione di leggibilità ok lo facciamo per ogni elemento del result set dopodiché restituiamo la connessione e restituiamo result return result questo mi dovrebbe dare la lista di driver che mi interessano per questa stagione servebbe perché qua non faccio return ok questo è il metodo che servirà al model per costruire il grafo allora nel modello a questo punto possiamo avere un nostro metodo crea grafo mettiamo void non so se deve ritornare qualcosa quindi per ora lo metto void crea grafo crea grafo verrà chiamato dal controller e ovviamente deve creare il grafo relativo a una certa stagione s quindi cosa deve fare crea grafo beh come prima cosa deve creare i vertici crea l'oggetto grafo ed estrae i vertici i vertici li chiede al DAO allora grafo creiamo l'oggetto grafo new simple la retta di weighted graph e come classe dell'arco è default weighted edge punto class ok abbiamo creato il grafo adesso creiamo i vertici list di driver chiedendoli al DAO allora devo creare la classe DAO formula one DAO punto e virgola a questo punto list.driver drivers uguale DAO punto get drivers for season s e questi altri non sono che i vertici del nostro grafo quindi graph punto add all vertices this punto graph virgola drivers dopo di che questa lista drivers l'ho creata e di fatto me la sto dimenticando la metto se mi interessa sapere quali sono i driver posso sempre andarli a reperire interrogando il grafo il vertex set del grafo altrimenti potrei anche salvarla come lista qua se mi servisse no se mi serve anziché driver metterò un this punto drivers e mi crea una variabile locale dentro il modello vediamo adesso non sono sicuro se mi servirà o no per pigrizia è meglio non fare una cosa finché non sono sicuro che mi serva ok allora adesso abbiamo il grafo creato qui fatto la new e il grafo con i vertici dentro facciamo una pausa nel senso che prima di scrivere l'altro codice verifichiamo che cosa è saltato fuori quindi meglio fare una stampa del grafo per vedere che siamo sulla buona strada allora questo crea grafo qua nel modello lo devo chiamare del controller perché altrimenti non fa niente nel controller c'era un metodo che si chiamava già do crea grafo va bene allora per poter chiamare model.crea grafo mi serve la season che l'utente abbia selezionato ecco la season la prendo dal box dell'anno punto get season get value che mi dà l'oggetto season se s è null vuol dire che l'utente non ha selezionato nulla e quindi dirò errore selezionare un anno una stagione a capo chiuse virgolette altrimenti vuol dire che ho l'oggetto season e quindi posso chiamare il crea grafo su S quindi nel controller richiamiamo questo crea grafo adesso proviamo a eseguire il nostro main selezionare selezioniamo un anno pittori e piloti qui non stampa niente perché l'abbiamo stampato sul console viene fuori una schifezza perché non abbiamo messo il two string dentro il driver e vabbè allora andiamo a metterlo la classe driver non ha two string e quindi viene fuori semplicemente l'indizio quindi non sappiamo capire se ha senso source è qua genera two string cosa voglio mettere cognome nome quando stampa il driver mettiamo nome cognome senza tutte estemenate qua di parentesi quadre spazio così ok quindi rifacciamo partire il main e nella console mi ha messo un grafo vedete la sintesi del grafo aperta tonda poi aperta quadra elenco di vertici che sono questi e poi in fondo c'è l'elenco degli archi che per ora è vuoto chiaramente non l'abbiamo ancora inseriti se io cambio la stagione ne prendo una più recente riclicco su vittore piloti lui mi ricostruisce il grafo con dei nomi di piloti che diciamo così sono un pochino più contemporanei e più noti a noi rispetto a quelli del 1950 quindi sta facendo cose sembra che siano anche giuste poi potremmo andare a verificare con le query del database ma insomma ok adesso abbiamo creato il grafo con gli archi cioè con i vertici dove è il model qua adesso dobbiamo creare quindi aggiungiamo che è qua togliamo sta print quindi questo crea grafo aggiungi i vertici e poi manco a dirlo aggiungi gli archi allora gli archi sono un po' più complicati perché io devo aggiungere un arco quando un pilota in una gara è arrivato prima quindi con una position più piccola con un numero di posizione più piccolo di un altro driver che anche egli è arrivato in quella gara quindi devo confrontare prendiamo la tabella risalza devo confrontare due posizioni position guardate qua questa position qua due posizioni di due driver diversi della stessa gara confrontare due posizioni significa confrontare due righe diverse di una tabella in database sapete che due righe non si possono mai confrontare l'unico modo è fare una coppia della tabella e confrontare fare una join di una tabella con se stessa per poter confrontare una determinata riga di una tabella con un'altra riga della stessa tabella quindi quando vi viene da confrontare per così una riga con un'altra vuol dire sempre che in SQL dovete fare una join con una tabella con se stessa join una tabella con se stessa in cui andiamo a confrontare la position e ci interessa che cosa ci interessa ovviamente il driver ID che ha quella position vincolato dal fatto che queste due questi due result queste due righe abbiano una race ID che sia la stessa e che sia dell'anno che ci interessa proviamo a scriverlo cioè a me interessa conoscere mettiamo la tabella risalza no riesco a fare più grande questo font aspetta un attimo è bui font grazie a tutti Grazie. Grazie. Sì, sì. Ok. Allora, dicevamo, noi innanzitutto ci serve, dalla tabella results, confrontare due risultati, chiamiamoli R1 e R2. E che cosa mi interessa vedere? Mi interessa vedere, ad esempio, che in una determinata gara, voglio vedere R1, punto, il pilota, la sua posizione, poi voglio vedere il secondo pilota, la sua posizione. Per vedere qualcosa, la sto costruendo a pezzettini questa qui, non ce l'ho ancora chiara in mente. Ma io so che di sicuro dovrò confrontare due risultati, in cui, qual è il vincolo? In cui, ovviamente, R1, punto, Rai Cd sia uguale a R2, punto, Rai Cd. Cioè, devo confrontare due risultati della stessa gara, se no che senso ha. E l'anno della gara, dov'è l'anno della gara? Rai Cd, aspetta, andiamo a vedere. Dentro Races? Ah, dentro Race, certo. Dentro Results non c'è, quindi devo collegarmi a Race. Devo vincolare questi Race, questi risultati, a essere risultati di una gara, non una qualunque, ma una di quell'anno. Quindi, poiché dentro Tabella Results non c'è scritto giustamente l'anno, devo aggiungere ancora a Tabella Races. A questo punto, devo dire che mi interessa che la Race.id sia uguale a R1, punto, Race.id. Quindi, quindi, la Race R1 e R2 che sono uguali, sono anche uguali a quella Races, il cui anno è, insomma, mettiamo 2000. Giusto? Sì, 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 non abbiamo ancora finito. Dobbiamo aggiungere anche la posizione, che uno venga prima dell'altro. Qui, finora, posso solo lanciarla per vedere che non avessi errori sintassi, infatti ce li ho. Ah, ok, Races. Qui ho tutte le coppie. Per una determinata Race.id, che suppongo sia dell'anno 2000, ho il 30 che è in posizione 1, accoppiato con il 30 in posizione 1, il 22 in posizione 2, il 23 in posizione 3, più tutti quelli che non sono arrivati, e così via. Allora, ovviamente io questa roba qua la devo filtrare, lasciando solamente le righe in cui in position qua, del primo, non c'è null, in position del secondo non c'è null, e position del primo è minore di position del secondo. Mettere un minore stretto garantisce anche che non ci sia mai lo stesso driver nei due lati, quindi automaticamente mi evita di avere l'arco con se stesso. quindi ciò che devo aggiungere è R1 punto position minore di R2 punto position. E voi mi direte, e is not null? Non devi dire anche che le position sono diverse da null? No. Se voglio sì, ma non serve, perché null è un valore strano, per cui qualunque confronto io faccia con null è sempre falso. Quindi mettendo già una condizione che vale, diciamo che usa questo valore position, se per caso R1 position o R2 position fossero nulli, questa condizione qua è sempre falsa, e quindi già automaticamente quelle righe vengono escluse. Infatti vedete che non c'è più nessun nullo in questa colonna. quindi qui li abbiamo tutti. Adesso cosa potremmo fare? Beh, una cosa che è facile da fare, stiamo pensando agli archi adesso, ok? Allora qui abbiamo l'informazione sulla base del quale costruiamo gli archi, qui sappiamo tutti i casi in cui 30 batte 21 nella gara 158. A noi mi interessa sapere chi batte chi e quante volte. Quante volte vuol dire che ci dobbiamo mettere un count. Quante volte il driver di primo, maggiore driver di, cioè minore, arriva prima, il driver di secondo, conto quante race diverse, in quante volte diverse cosa succede. potrei cercare di fare una query unica che mi dà già tutti questi risultati, oppure magari per semplicità scegliere, fissare, fissiamo due driver, ad esempio il 30 e il 22, per capirci meglio, r1.driverid uguale r2.driverid, uguale squadra no, perfetto, 30 and r2.driverid uguale 22. due, se io fissassi due driver avrei l'elenco delle race, qui dipende un po' da dove volete complicarvi la vita, se volete complicarvi la vita un pochino di più in Java, allora fissiamo questi due driver, in Java faremo un doppio loop che mi genera tutte le copie di driver possibili e per ciascuna copia di driver facciamo una guida del database, gli chiediamo in quante gare questo batte l'altro e quindi in questo caso basterà, fatemi solo fare una coppia di questa qui perché poi la modifichiamo in modo diverso, basterà contare il numero di races, così, quindi di tutti quegli risultati non mi interessa niente se non il numero di righe, il numero di gare diverse in cui ciò succede, allora questo lo posso fare per ogni volta, ovviamente se cambio pilota devo fare una query per ogni copia di pilote, il 30 col 23, il 22 col 23, il 23 col 22, controllo solo a vedere che siano, poveretto il 23 hanno mai vinto col 22, non so chi sia ma erano i primi numeri che mi sono capitati sott'occhio, il 23 ha battuto il 30 una volta, ma il 30 ha battuto il 23 7 volte, quindi abbiamo queste informazioni, vorrei dire che dovrò fare tante query, una per ogni coppia di driver e con questo popolo gli archi del grafo, che se vi ricordate dalle primissime lezioni sui grafi era quello che avevamo chiamato il metodo 1, faccio un doppio loop sugli archi e per ciascuna coppia di vertici, sugli archi potenziali per ciascuna coppia di vertici faccio una query per vedere se l'arco c'è o non c'è e in questo caso che peso dargli. L'alternativa è cercare di fare in modo, e qui ho la stessa query di prima, prima che aveva digesti il count e gli end sui driver, ma in modo alternativo è quello che avevamo chiamato il metodo 3 se non sbaglio, cercare di fare una query unica che mi dia già esattamente i dati che mi servono per creare esattamente gli archi che mi servono. Allora in questo caso cosa mi serve? Mi serve il driver di 1, il driver di 2 e il conteggio dei race. Mi serve sempre il count di races, il driver di 1, lasciamo perdere la posizione, il driver di 2, chiamiamolo di 1 e il driver di 2 lo chiamiamo di 2 e come faccio? Devo fare non dei totali sul numero, il numero totale di race, ma dei subtotali del numero di race per ciascuna coppia di driver. A questo serve una clausola group by in questa query che dice raggruppa tutti i risultati che abbiamo visto prima, fagli a gruppetti, gruppetti in cui di 1 e di 2 siano uguali, quindi tutte le race in cui di 1 è uguale a 30 e di 2 è uguale a 22, mettiamole tutte vicine e collassamele e contami quanti race c'erano in questo caso e poi fammelo per tutte le altre coppie di driver di 1 e di 2. Quindi mi dice che il 2 batte il 18 una volta, il 2 batte il 25 una volta, il 2 batte il 49 una volta, il 14 batte il 35 11 volte e così via combattendo, il 18 batte il 64 5 volte eccetera eccetera. Quindi il numero dovrebbe corrispondere perché noi avevamo ad esempio 30 batte il 23 sette volte, vediamo un po', dov'è il 30? Il 30 batte il 23 sette volte, per fortuna il database non mente. Sta a noi, a voi, a ciascuno di noi vedere quale strada preferisce, è chiaro che qua devi essere un tantino più ginnico in SQL e ricordarti cos'è il group by, dall'altra parte invece lavoro un pochino di più in Java con i doppi loop. Qui ovviamente avrò la query che mi ritorna delle coppie di tre numeri e qui mi servirà un oggetto apposta che contenga questi tre numeri, insomma c'è un… ok? Da modi diversi. Proviamo ad andare avanti con il primo, poi se volete vediamo anche il secondo, ma c'è poco a differenza. Questi sono gli archi. Allora, tu stai chiedendo se usassimo questa opzione qua, la seconda… sì, cioè in questa seconda opzione, ripeto quello ha detto lui, dice in questo caso mi sarebbe una mappa, unzip quello che hai detto, vuol dire che se la query è questa mi istituisce un driver ID, 30 è un vertice del grafo che contiene quel driver ID? Per saperlo, i vertici del grafo, quando li ho letti, li ho messi nel grafo, li avrei dovuti anche salvare in una mappa per poter velocemente, rapidamente passare dal driver ID all'oggetto driver che è il vertice del grafo su cui creare quell'arco. Sì, certo. A meno che non volessi, anziché prendere solamente l'ID, portarmi dietro tutti i dati del driver, ma è un lavorone inutile, quindi in questo caso sarebbe sicuramente utile avere un'identity map sui driver. In questo caso vedremo, cominciamo a implementare questo, non ci serve un'identity map perché in realtà noi già iteriamo noi in Java sui vertici, quindi non creiamo mai vertici nuovi. Partiamo da questo. Nel DAO, mettiamo, prima di perderci quella query, mettiamo un public, questo restituisce che cosa? Un numero, integer, conta vittorie, di cosa? Conta la vittoria del driver D1 sul driver D2 nella stagione D2 nella stagione S. Giusto? Scriviamocelo perché conta il numero di vittorie D2 nella stagione S. E come fa a contarlo? Così. Ovviamente al posto di 2000 ci mettiamo il punto interrogativo, al posto di 30 ci metto un altro punto interrogativo, al posto di 23 ci metto un terzo punto interrogativo, mettiamo gli spazi dove è giusto che gli spazi questi siano. E facciamo questa query. connection, db.connect.getconnection, connection.close, try catch, questa cosa qua la facciamo in automatico perché sono sempre le stesse cose, prepare statement, connection.prepare, sql, adesso qui invece dobbiamo uscire dalla modalità automatica, dobbiamo impostare i parametri, quindi il primo parametro è l'anno della race, primo punto interrogativo, quindi è un intero, parametro 1, s.getyear.getvalue, l'anno della stagione che ci interessa. secondo parametro è il driver d1, quindi un altro intero, che è d1.getdriver.id e il terzo parametro è il driver d2, 3,d2.getdriver.id. gira, 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 e eseguiamo la query, result set, res uguale st.executequery. adesso questa è una query di tipo strat count, quindi restituirà una riga e se per caso io ho dei driver che non hanno mai combattuto insieme, cioè se quella tabella restituerà la tabella complessiva delle coppie di vittorie, non avesse nessuna riga, beh il count restituisce 0, quindi io sono sicuro di avere sempre, se la query va a buon fine, se non ci sono errori col database, sempre una riga nel risultato, composta, guarda caso, di una colonna. Colonna che chiamiamo, diamogli un nome, count, perché non aveva un nome. Allora a me interessa il valore da ritornare come l'intero che sta in quella colonna, allora devo innanzitutto posizionarmi sulla prima riga, ad esempio, non c'è modo di andare alla prima? Vabbè, facciamo un next. Allora chiamo il metodo next per posizionarmi sulla prima riga, perché altrimenti il cursore è prima della prima riga e da qua, qui non ho bisogno di while o di if, sono sicuro che ci sia una riga. A questo punto il result è result set punto getint di count, che è il nome che ho dato alla colonna, per chi si sia distratto io ho aggiunto qua un as count qua sulla prima riga, perché altrimenti la prima colonna non aveva un nome o non sapevo quale sarebbe stato il nome dato al database, gli ho dato io, altrimenti essendo c'era una sola avremmo anche potuto mettere uno, getint 1, prima colonna non ci pensiamo più, però avrei dovuto pensare se era 1 o 0. A questo punto, dopo il connection.close, posso ritornare al risultato. Allora questo diventa il metodo che userà il mio model per creare il graph. Lo chiama ogni volta con una coppia di driver diversi. Qui ho chiamato questo metodo integer e non int come tipo di ritorno proprio per poter gestire il null. Cos'è stato un int non avrei potuto fare il ritorno null qua, ma avrei dovuto generare un'eccezione. Ok, allora questa roba qua la possiamo chiamare del modello, dicevamo, per aggiungere gli archi a questo punto usiamo quello che abbiamo chiamato metodo 1, for driver d1, due punti, this.graph.vertexset, for driver d2, this.graph.vertexset, per ciascuna copia di vertici d1 o d2, se non sto parlando di un vertice con se stesso, perché noi non vogliamo dei loop, non ci interessano, quindi se t1 e d2 non sono lo stesso vertice, lo stesso driver, allora chiediamoci quante vittorie il primo ha avuto sul secondo. Dow.conta vittorie d1 su d2 della stagione S e se vittorie uguale 0 l'arco non ce lo metto, se vittorie è diverso da 0 l'arco ce lo metto con quel peso. Quindi if vittorie maggiore di 0, allora graphs.add.edgewithvertices, questo qua, io uso il metodo di graphs perché mi permette in istruzione sola di creare l'arco e aggiungere il peso, altrimenti avremmo fatto add edge, il graph.addedge e poi avremmo dovuto alla riga dopo scrivere set edge weight, visto che sono pigro. This.graph, vertici di partenza d1, vertici di arrivo d2, peso dell'arco vittorie. Punto e virgola. Le ordini di grandezza quali sono? Giusto per non farci del male. Il vertex set l'abbiamo visto, sono 20, 22, 23, 25 driver. Quindi quante query stiamo facendo? Perché ricordiamoci che ognuno di queste è una query. Stiamo facendo sui 20 alla seconda, 25 alla seconda, 500 query. 500 query di questo genere, che sono roba, ce l'abbiamo ancora qua sotto, di millisecondi, frazioni di millisecondi, vuol dire che siamo probabilmente, dovremmo essere largamente sotto un secondo. Se fate 500 query da un millisecondo ciascuna fa mezzo secondo. Quindi accetto di considerare questa possibilità perché so che non mi impallerà per 20 minuti il database. Allora, se arriviamo alla fine da qua e se è tutto giusto finora, dovremmo avere il grafo. Proviamo a stamparlo, sarà un po' un mostro, ma vediamo cosa esce fuori. Poi non abbiamo ancora finito il punto 1, ci manca ancora l'appendice di trovare qual è il miglior driver, ma a questo punto verifichiamo solo la costruzione del grafo se è a posto. Riprendiamo il main. apriamo la console bella grossa che ci servirà, scegliamo un anno, 2015, creo il grafo, model java 43. Vittorio è null. No, ma non mi preoccupa, se non è definito l'equals mi confronto agli indirizzi di memoria, ma in questo caso mi va bene. No, uso l'indirizzo di memoria, non dovrebbe essere, potrebbe essere, ma... Allora, il fatto è che se è vittorio è null vuol dire che dovrei aver visto un'eccezione di SQL prima. Eccola qua. Ho sbagliato qualcosa. I have an error, bla 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 bla, near r1.racyd, lo spazio qua, n, racis, cos'è sta n? Ah, così, mi è rimasto da quando ho cancellato i barra n. Oggigiorno delle n. Ok. Non fatevi mai fregare a essere intrappolati dalle vostre stesse ipotesi. Quando vedete un errore, prima di pensare, secondo me è quello, e cominci ad andare a correggere da qualche parte, verificate sempre che sia quello davvero. Ok? Per farlo bisogna andare a vedere localmente cosa succede, no? Cioè io avevo il modello e sapevo che questo era null. Perché è null? Ma perché questo mi ha restituito null. E perché questo mi restituisce null? Perché ho avuto un'eccezione SQL. Quindi prima curiamo dove fa male il dente, poi andiamo a vedere se c'è altro intorno. Ok? Allora, riproviamoci. Chiudiamo questa applicazione, la rilanciamo. Vittorie piloti. L'ho cliccato. Ha fatto qualcosa, ma non mi ha stampato niente. Allora, io vi assicuro che ci sono stati 20 minuti di sera a capire perché cacchio, non stampa niente, ma invece sì. Da un certo punto in avanti. Prima era tutto bianco, ma in realtà la roba c'è. Cioè se voi andate a prendere un blocco note, fate doppio clic, copia e incolla, c'è tutto. Le gioie di Eclipse. Ok? Era troppo lungo, non ce la fai. Chissà perché decide di lasciarmi, come ne so, 200 colonne bianche e poi, ma col testo dentro, ma invisibile. E poi, vabbè, è così. Printline, devo vedere qualcosa, non è possibile. Il programma non si è bloccato, non si è piantato, non è la gestione, non è lì che gira e non mi stampa niente. Ecco. Ve l'ho fatta breve, ma... Quindi qua ci sono dei grafi. Purtroppo la stampa del grafo mi stampa la copia degli archi, ma non mi stampa il peso, per come è fatta la two string nel grafo. E quindi non riesco a vedere se questa copia qua, se Hamilton ha battuto Rosberg una volta due, cento, non lo so. Ok. Allora, con questo abbiamo quasi finito il primo punto, perché ci manca, costruito il grafo, il sotto punto C, costruito il grafo, l'applicazione visualizza il pilota che ha totalizzato il miglior risultato. Definito come differenza tra numero vittorie e disconfitte. Allora, a questo punto possiamo fare un altro metodo nel model che calcoli quello. Cioè, di tutti i nostri vertici, di tutti i nostri piloti, qual è quello che è stato più bravo? Vabbè, è un calcolo di massimo. Togliamo questa print line, perché tanto ci fa solo amare Eclipse. Quindi, un metodo che mi istituisca il driver, getBestDriver, ovviamente che va ad interrogare il grafo appena creato. Quello che ha la somma delle differenze tra vittorie e sconfitte è più grande. Quindi, qui sto calcando un massimo, quindi mi serve un driver Best e un intero Max, che inizializzo, ad esempio, a integer.minimumValue. Quindi un max lo inizializzo a un numero molto piccolo, in modo che la prima volta riesca... Non metto max uguale a zero, perché in realtà ci sono dei numeri negativi di dentro. Ci sono dei driver che hanno perso più di quante volte abbiano vinto. Allora, non saranno loro che diventano il Best. Però non mi piace partire con un valore di partenza che non è effettivamente minore. No, quando cerchiamo un massimo dobbiamo avere un valore di partenza che dovrebbe essere minore del più piccolo di tutti. In modo che la prima volta che il primo driver che prendo, di sicuro mi scavalca questo max di partenza e mi imposta un valore vero. Perché altrimenti, questo Best uguale a null sopravvive un po' troppo, per i miei gusti. Poi, se mettete anche zero funziona lo stesso. Meno tanto funziona meglio. Allora, driver di due punti, graph, punto, vertex set. Andiamo a vedere per ciascun driver qual è il suo peso in termini di vittorie. Allora, com'è il peso? E' la somma delle gare vinte, quindi la somma dei pesi degli archi uscenti, meno la somma delle gare perse, cioè la somma dei pesi, meno il conteggio delle gare perse, cioè la somma dei pesi degli archi entranti. Io ricordo l'esame, molti si sono fatti ingannare da suggerimento, il numero di vittorie tra parentesi, quando io ho messo questi archi uscenti tra parentesi, era per dire, quel numero lì lo trovi sugli archi uscenti. Invece molti si sono fermati a leggere la parentesi e hanno detto, allora è il numero di archi uscenti. No, non è il numero di archi uscenti, è il numero di vittorie, perché ogni archi uscente conta per uno o più vittorie, dipende dal peso. Volevo farvi un favore col suggerimento, ma probabilmente qualcuno è rimasto confuso. Allora, dicevamo, per tutti gli archi uscenti, allora gli archi come li trovo? Outgoing edges, no? Get, no, outgoing edges of? D. E cosa sono questi? Sono gli oggetti edge. Quindi, per tutti gli edge che sono archi uscenti di D, di questo driver, peso uguale peso più, incremento peso di che cosa? Del peso di questo edge. Allora, il peso dell'edge non si trova nell'oggetto edge. In jgraphp l'avete già scoperto, non c'è e.getweight. Nell'edge non c'è praticamente niente. Se devi fartelo dire dal grafo, get edgeweight di e. Quindi, il getweight non è un metodo di edge, ma è un metodo di grafo, per come è costruito. E poi, fatto la stessa cosa con gli incoming edges, però questa volta sottraggo al peso che ho calcolato finora. Quindi, parto da zero, sommo le vittorie, sottraggo le sconfitte e ho un numero che è bilanciamento tra i due. Una volta che ho questo, lo confronto col max. Se il peso è maggiore di max, e la prima volta di sicuro lo sarà per come ho scelto il max, max uguale peso, best uguale t. E alla fine di tutto il for, questa chiusa graffa chiude questo for driver, posso restituire il best a chi? Al controller. Best, cos'è che non ti piace? Initialize variable? Il massimo era null. Non dovrebbe mai uscire nulla qua, ovviamente. Ok? Allora, se abbiamo questo, basta andare a completare il nostro controller, che dopo aver chiesto al modello di creare il grafo, gli chiede anche qual è il best. Get best driver. E questo è ciò che può stampare. Prendiamo solo il driver giusto. E quindi, a questo punto, txt.result, append text. Il pilota migliore della stagione, quindi s.cathier, è best.toString. Migliore, ovviamente, secondo questo criterio. Che non è necessariamente colui che ha vinto il campionato. che è il best driver, lo mettiamo nel controller. Proviamo a questo punto il programma completo. Vittorio ai piloti. Il pilota migliore del 2015 è Hamilton. Nel 2016 Rosberg. Nel 2014 era Hamilton di nuovo. E poi, se andiamo indietro, andiamo a nomi un pochino più storici. Allora, direi che c'è tutto qua. Abbiamo concluso il primo punto. Adesso possiamo farci il nostro intervallo, anche un po' ritardato, ma almeno abbiamo completato il primo punto. E poi, dopo l'intervallo, ci congentiamo sul punto 2. Ci portiamo a casa, come compito casa, quello di provare a implementare il primo punto con quest'altra qui di alternativa. Ok? Magari facciamo poi un branch diverso e lavoriamo in quello, come confronto. Ok? Adesso possiamo fare intervallo. Grazie.